A posta in provincia di Rieti nel Lazio il 5 agosto in località Bacugno in segno di ringraziamento per il raccolto gruppi di persone tracciano con i piccioni un solco il più rettilineo possibile iniziando dalla cima di un alto colle fino alla chiesa di Santa Maria della Neve. Il solco dritto è segnato al suo inizio da un palo di faggio alto più di 10 metri detto biffa nel giorno della festa si svolge una processione con la statua della Madonna al corteo prende parte anche un toro bardato a festa e cavalcato da un ragazzo preceduto da un carro che trasporta il manocchio un grande covone di grano recante una croce di spighe. Sul carro stanno anche vari cesti uno di essi contiene un grande ciambellone gli altri ciambelle più piccole. Giunti davanti alla chiesa l'animale si genuflette per tre volte in tre luoghi diversi l'ultima delle quali davanti al portale di ingresso. Poi le ciambelline e fette del ciambellone vengono lanciate ai presenti un augurio di buona fortuna. Le campane suonano a festa mentre la banda esegue un allegro repertorio. In occasione delle celebrazioni vengono inoltre allestiti spettacoli folcloristici legati alle tradizioni locali e stand che propongono i prodotti tipici della zona.